Come Confagricoltura applaudiamo al rigetto della misura della riduzione dei prodotti fitosanitari. Tutti noi siamo consapevoli degli effetti del cambiamento climatico, ma noi agricoltori più di altri, ahimene, siamo le vittime. E senza gli mezzi, senza gli strumenti, senza le medicine delle piante, difficilmente avremmo potuto curare le nostre piante che si ammalano sempre di più. E quindi questa scelta politica va nella giusta direzione, era quello che come Confagricoltura abbiamo chiesto, e quindi siamo grati a tutti quei parlamentari che hanno voluto garantire un futuro all'agrimoltura, ma soprattutto un futuro ai prodotti sani e naturali che i cittadini ci chiedono.